Benvenuti nell'universo affascinante della Fede Sarda, un gioiello che si tramanda di generazione in generazione, custodendo segreti e leggende intramontabili. Scopriamo insieme l'epica storia di questo anello mitologico, simbolo dell'amore e dell'identità della Sardegna. Fede Sarda e la leggenda delle Janas, un mito avvincente. Immergiamoci nella narrazione leggendaria che circonda la Fede Sarda. Questo anello non è solo un ornamento, ma un simbolo di passione e protezione. Le Janas, piccole fate legate alla magia e all'amore, sono le ispiratrici di questo gioiello. Si dice che le Janas tessessero fili d'oro e d'argento, creando intricate trami di amore e destino. Un'antica tradizione e un rituale d'amore. L'antica tradizione della Fede Sarda racconta di un passaggio prezioso, il dono dell'anello dalla madre alla figlia, un atto di affetto e benedizione. Questo gesto segnava l'inizio di un nuovo capitolo, un legame tra generazioni e la promessa di un amore eterno. L'anello diveniva un sigillo di cuori intrecciati e legami profondi. L'arte orofa sarda, filigrana e chicchi di grano. L'arte orofa sarda è sinonimo di maestria e tradizione. I gioiellieri creano opere d'arte intrecciando filigrane d'oro e argento, dando vita a anelli unici. La Fede Sarda si presenta in diversi modelli, tra cui il celebre nido d'ape e il R affascinante a foglia. Questi modelli incastonano chicchi di grano, simboli di fertilità e abbondanza. Dalla tradizione all'attualità, la Fede Sarda oggi. La Fede Sarda non è solo un ricordo del passato, ma un tesoro vivo che si evolve con il tempo. Questo gioiello, una volta indossato solo in occasioni speciali, è diventato un simbolo di identità e amore. Oggi è ricercato dai turisti come souvenir e dono prezioso. La sua bellezza e significato si riflettono nelle mani di chi lo indossa.